Totti porta l'Italia in cos'è successo? Roma Totti porta l'Italia in Qatar. Non proprio quell'Italia, Francesco Totti è protagonista della serie video Un'Italia in Qatar realizzata con la divisione italiana della Volkswagen in cui con l'ironia intraprende un lungo viaggio al volante dell'ID, bas 100% elettrico per portare l'Italia in Qatar. O meglio la signora Italia. L'ex capitano giallorosso parte alla ricerca dell'Italia una signora per portarla in Qatar. Un viaggio mondiale che vedrà l'ambasciatore della mobilità elettrica Volkswagen e la sua insolita ospite. La signora Italia, percorrere grandi distanze a zero emissioni e attraversare il deserto per raggiungere il paese che in queste settimane ospite il mondiale. Tra poco con Italia. Virgola.